ok ragazzi siamo all'esmo sempre nella ridente brianza e qui con alessia andiamo dentro che sono c'è rumore già anche oggi senza microfono perché lì purtroppo è inchiodato da qualche parte da bene se mostrare come va tutto bene parliamo ad alta voce così ci sentono però qua ma ragazzi guardate che specchi che ha complimentissimi davvero super questo c'è vale la pena di entrare in salone soltanto per soltanto per mi metto lì mi siedo e godo della giornata va bene allora come va come sta andando ci hai chiamato ti sei prenotata siamo ingombranti ok allora tu hai un salone che stai un po riprogrammandolo rifacendo perché l'hai rilevato ci stai mettendo il tuo imprinting diciamo così ok quali programmi futuri mi dicevi di un logo di un claim spiegato come funziona ok ok e ti sei persa vedo che stai paciugando con la cartella colore di presa perché siamo rimasti che fa ma wow me la dai davvero si tra davvero con le cartelle colori fanno fatica a lasciarle e apprezzo molto che diano la cartella colore in modo che uno può valutare che colore può usare cartella colore e e anche ossigeno e anche shampoo e anche trattamento doveva lasciato quindi c'è dopo di che puoi andare a guardare tutto adesso allora vedo che tu tanto ti sei specializzata fai dei trattamenti abbiamo facciamo pure anche pubblicità ai ragazzi di tricologica perché va bene siamo tutti il nostro claim è siamo tutti colleghi in questo momento di restare quindi non ci sono diciamo competizione tricologica non esiste più in realtà è diventata bmatch sì ok ok bmatch che ce l'abbiamo qui bmatch quindi saluti a bmatch abbiamo però anche i trattamenti c'è una signora che sta facendo il trattamento in generale non vogliamo disturbare dopodiché qua abbiamo una zona che purtroppo bene sono appropriato io del tuo divano mettendo lì che mi hai fatto vedere le offerte che stavi facendo che di solito non ci sono ok no offerte non sconti che è diverso e quindi ci sta no e poi abbiamo la zona di lavatesta ok che utilizzi una volta una volta soltanto è bellissima questa è quella questa qua non l'ho vista prima questa qua carinissima carinissima si guarda con una bambolina eh vabbè ok allora ti stiamo posizionando verso il colore mondo colore mondo colore sto facendo diversi corsi per diverse tecniche ok intanto Semi guarda un po' qua guarda un po' qua che abbiamo tac del righe stasera c'è un corso del righe ballare altro l'altro e quindi ti stai specializzando perché hai visto che posizionandoti in una certa maniera i clienti aumentano cioè sono più felici com'è la tua sensazione? eh sì sono più felici per comunque una cosa molto naturale che va bene anche un pochino per tutti diciamo anche la ragazza giovane per potersi approcciare un po' al mondo del colore i colori piatti per me non piacciono quindi le sfumature danno anche tirano fuori lo stile naturale che c'è nella persona diciamo nel senso possono tirare fuori il loro essere il loro essere ok tra l'altro poi abbiamo parlato anche di Olaplex che è curiosa e ti ho dato questa chicca per riprenderti il prodotto con il corso che vedremo subito che so che anche Olaplex è molto fantastica da mettere insieme anche la decolorazione eh sì è proprio c'è proprio pappa e ciccia come si può dire è il matrimonio perfetto per questo tipo di cose e quindi adesso puoi avere anche il loro corso con gli ambassador cioè prendere un prodotto e fartelo spiegare da quasi chi l'ha creato anche se non è proprio così è una cosa super conoscono tutti i segreti ma poi ti insegnano non soltanto a quanto è fare questo ma ti insegnano a usarlo in tanti modi diversi un po' come prima col gestionale uno pensa a una cosa e poi scopre che c'è un mondo c'è un modo come il phon come le forbici come tutte le cose che abbiamo fatto vedere esatto c'è un po' come i figli che vengono però il lavoro va bene io posso prendere appuntamenti regolari fino a settembre ok tu vabbè quello è però una cosa un po' particolare come anche prima ancora è natale passato però non siamo a gennaio ok però luglio 2019 e luglio 2020 più o meno sei lì più o meno sei lì quindi c'è dipende come si posiziona come si propone sulle clientela si vabbè sono fortunata che ho tanti clienti anche settimanali diciamo che mi vedono regolarmente i colori ce li ho conto quasi ogni 3 massimo 4 settimane ok e propongo tanto anche trattamenti ristrutturanti sia con l'ossigeno che non tra l'altro sai che ho l'aplex l'1 e il 2 c'è un modo per usarlo come trattamento spa con l'acqua fa anche quello si trasforma in un trattamento una cosa particolarissima va bene oh mi raccomando curiosa tra tutti i gadget che ti ho fatto vedere eh ti abbiamo venduto qualcosa no perché perché dico no vengono ok ok dopo gli mando subito l'offerta va bene dai Alessia è stato un piacere complimenti per il salone splendido cioè vi lascio con queste immagini degli specchi che sono davvero fantastici vediamo la frase quando prendi la piega dalla tua parrucchiera è qua eccola qua va bene ok perfetto ciao a tutti i ragazzi ci sono davanti alla telecamera e ci vediamo tra un po' ciao ciao